Il giudice presso il Tribunale di Lago Negro, dottor Bellussi, ha assolto il blogger e capogruppo della lista civica Policoro e tua, Ottavio Frammartino, accusato di aver diffamato Filippo D'Agostino, conduttore di BR2, in un articolo del 2011, in cui Frammartino parlava dell'appalto della radio di Sant'Arcangelo e dei rapporti stretti tra lui e l'amministrazione di Policoro. Le motivazioni dettagliate della soluzione saranno rese note entro 90 giorni, ma intanto Frammartino ha tenuto nella mattinata di martedì 24 giugno una conferenza stampa in piazza Eraclea Policoro, per discutere sul processo in questione, per spiegare come la denuncia di diffamazione sia diventata un'arma per cercare di tappare la bocca a chi dice alcune verità, così come ha spiegato anche ai nostri microfoni. Scrivo articoli sulla situazione politica della mia città, che è Policoro, e quindi in uno di questi articoli del 2011 parlavo del sistema Policoro, prendevo spunto dall'indagine fatta alla procura di Matera e sugli arresti dell'allora sindaco e ad alcuni amministratori per parlare di un appalto dato dal Comune a una radio privata di Sant'Arcangelo BR2 e delle sue connessioni e riportava anche vecchie vicende rispetto alla gestione della pasta per i poveri. In questo articolo ho avuto una querela per diffamazione da uno degli speaker di questa radio, un certo Filippo D'Agostino sono andato sotto processo e il giudice ieri ha avuto la comunicazione della mia assoluzione perché il fatto non sostiene. Questa non è la prima e la seconda, ce n'è stata un'altra più eccletante di poche settimane fa di cui c'è anche la sentenza della Corte dei Conti, pratica non solo mi assolvono, non solo mi riconoscono le spese ma in quel caso anche il danno morale. Il messaggio che si vuole inviare, state attenti prima di querelare se la querela è un'intimidazione fatta per le persone liberi, per i giornalisti liberi, state attenti perché ne potete pagare anche le conseguenze.